Da lunedì inizieranno i lavori sul Gran Sasso, una vera criticità per tutta la viabilità Teramo verso l'Aquila. Pendolari, lavoratori che quotidianamente devono percorrere l'autostrada A24, per loro sarà davvero un calvario e una via Crucis. Per questo abbiamo chiesto al governatore Marsilio almeno di ridurre il pedaggio, azzerarlo per alcune categorie. Ma ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta. Purtroppo Marsilio e la sua giunta, lo reggiamo quotidianamente, è impegnato per la spartizione delle poltrone e dei problemi veri dei cittadini abruzzesi, nessuno se ne cura.